Gentili telespettatori, buona giornata. Così Antonio Di Pietro dice che su questa Maria Rosaria Boccia sostanzialmente basta giocare con le istituzioni. Ma caro Di Pietro, se la Boccia gioca con le istituzioni significa che le istituzioni le hanno permesso di giocare. Da quello che si è sentito da varie testimonianze, questa Boccia è diverso tempo che gironzola intorno alla politica e cerca di agganciare qualche politico per emergere, quindi non passando dalla militanza, la provincia, la sezione locale, la scorciatoia, aggancio direttamente qualche personalità importante e scavalco tutti e dentro in politica in qualche modo. Quindi la Boccia ha provato a entrare in politica in un certo modo e ha trovato, diciamo, delle persone o ha trovato una persona che non è riuscito a vedere chi era la Boccia. Che io, una persona come la Boccia, come vi dicevo in questi giorni, la vedo a un chilometro di distanza. Io un personaggio così lo vedo immediatamente, immediatamente. San Giuliano non l'ha visto e dire che era stato anche avvertito San Giuliano, era stato avvertito da una telefonata o da un incontro con Arianna Meloni che gli ha detto stai attento a questa donna. Boom! Ci è cascato come una pera. Pensa un po', l'avevano anche avvertito, eh? Se ti hanno anche avvertito e ci sei cascato significa che realmente io ti avevo sopravvalutato San Giuliano. Insomma, non è che ti avevo chissà che sopravvalutato. Avevo fatto delle mie valutazioni ma ritiro quelle valutazioni? Se ti hanno avvertito e ci sei cascato dopo che ti hanno avvertito, proprio non ci siamo, eh? Proprio non ci siamo. Comunque, a questo punto Di Pietro dice basta giocare con le istituzioni e come vi dicevo prima, caro Di Pietro, lei ci ha provato da tempo a entrare, agganciare qualche politico e l'ha agganciato per bene perché ha trovato, ha trovato quello che ci è cascato nonostante l'avessero avvertito. Insomma, non si gioca con le istituzioni. E così Antonio Di Pietro, ospite all'aria che tira, aveva espresso la propria solidarietà ad Arianna Meloni per le presunte pressioni sulle nomine RAI al centro di altrettante presunte manovre complotti e cose del genere, cosa che io non ho mai creduto però. Insomma, io di principio non credo mai tanto ai complotti, secondo me i complotti servono per nascondere alcune cose. Comunque, il tema del giorno è Gennaro, Gennaro San Giuliano, che ha lasciato il posto venerdì scorso e questa Maria Rosaria Boccia è riuscita a fare quello che le opposizioni non sono riuscite a fare. Le opposizioni e parte della magistratura e due anni che cercano di fare cadere il governo o di far dimettere qualche ministro, zero. È arrivata questa e ha fatto dimettere il ministro. Pensate un po'. È stata più incisiva questa Maria Rosaria Boccia di stuolo di politici che hanno provato in tutti i modi di mettere qualche ministro. E così possiamo dire che l'ex magistrato di Mani Pulite nuovamente ha l'aria che tira sulla sette con Parenzo e dice chiunque abbia amministrato, abbia fatto qualche errore, io al ruolo di giudice degli errori che hanno fatto gli altri non ci sto. In qualità di ex ministro delle infrastrutture e trasporti nel governo Prodi, non voglio parafrasare Craxi, ma chi non ha fatto errori scagli la prima. Pietra, questa signora, dice la dottoressa Boccia, io la rispetto senz'altro, ma in questo momento se ha qualcosa in mano lo tiri fuori o altrimenti non ci deve marciare perché non si gioca con le istituzioni. Le istituzioni sono una cosa seria a prescindere da San Giuliano, e lo so, a prescindere da San Giuliano. Questo tira e molla, questo dire e non dire, alla fine finora cosa ha detto? Niente di particolare o rilevante, se ha qualcosa di rilevante lo dicesse altrimenti finisce soltanto per andare contro le istituzioni e questo non deve essere permesso a nessuno, a mio avviso. Detto questo, dice Di Pietro, è una vicenda che stiamo ingrandendo per sviare l'attenzione su vicende molto molto più gravi che riguardano il rapporto della giustizia, informazione e politica. Il riferimento oggi, come per il caso Arianna Meloni, è lo scandalo dossieraggio. Concordo, chiosa una infervoratissima Alessandra in studio. Allora, il caso Boccia tenta di oscurare il dossieraggio, però chi? Il centrodestra che tenta di oscurare il dossieraggio che contro il centrodestra? No. E allora il centrosinistra con la Boccia che cerca di oscurare lo scandalo dossieraggio? Allora, parliamoci chiaro, lo scandalo dossieraggio è uscito parecchi mesi fa e non se l'è calcolato nessuno. Adesso escono ulteriori cose, ma non se lo calcola nessuno. Perché? Perché agli italiani non interessa. Sarà gravissimo? E agli italiani non interessa. Non interessa. Troppo complicato da capire, macchinoso, spiegazioni lunghe un chilometro, questo ha fatto, quello ha detto. Agli italiani, per quanto lo scandalo dossieraggio sia la cosa principale oggi, non se lo calcola nessuno. Anch'io, per parlarvi di questo scandalo dossieraggio, dovrei prendere e studiarlo per settimane. Io, per poter cominciare, cominciare a dare una semplice opinione sul dossieraggio, dovrei studiarmi le carte, ma sono cose immense che non saprei neanche poi dove trovare. Dovrei leggermi migliaia di pagine che non so neanche dove trovare per poter cominciare a capire e poter dare anche delle opinioni. Perché tu non puoi arrivare così, aver letto dieci righe di un articolo e cominciare a pontificare. Allora lo scandalo dossieraggio, questo ha detto, ma come fai? finisci poi nei casini perché parli di cose che non conosci. Quindi per parlare di dossieraggio bisogna conoscere il caso. Infatti per conoscerlo devi studiare chissà quale carta, infatti nessuno lo commenta, perché nessuno sa esattamente le cose, perché è una cosa talmente grande. con migliaia di pagine, di intercettazioni, di commenti. Anche per un magistrato è difficile mettere insieme tutto. Figuratevi per uno così che commenta le notizie del giorno. È impossibile, anche per le trasmissioni televisive. Immaginatevi una trasmissione televisiva che parla di dossieraggio, ma con quali competenze parli di questo dossieraggio? In base a delle frasi sentite così? Arrivederci a tutti e grazie.